Buongiorno a tutti amici e ben ritornati sul mio canale di pesca Kama Fishing Life Oggi vi mostro una vecchia pescata, è dello scorso inverno ma dato che ci riavviciniamo alla stagione e sono in ritardo con le pubblicazioni ve la propongo oggi Niente, è qui il primo ruffo della giornata, prendo subito questa bella spigola e successivamente nelle clip che verranno dopo ci sarà la cattura di un grosso pesce dopo vari tentativi a vuoto faccio un cambio di spot con la barca ho in barca mio padre che fa da barcaiolo, c'è molta onda e risacca appena entro in acqua vedo passare questo pescione fra le gambe spero nella spigola, faccio una specie di capriola per poterlo sparare al volo lo colpisco, poi parte furioso e comincio a pensare che probabilmente si tratta di un serra però la speranza è che magari si trattasse di una ricciola invece niente, si tratta di un grosso serra, un bellissimo pesce per un periodo avario che era al tempo vi ringrazio per la visione, vi mando un saluto e se non lo avete già fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi le prossime avventure ciao, i missi ciao, i missi ciao, i missi ciao